Buonasera a tutti, anzi buongiorno, buonasera a seconda di quando ci seguite, per questa che non è chiaramente una diretta, siamo registrati anche perché non siamo andati in onda con solo il show questa settimana, per ragioni logistiche diciamo, ma ne valeva la pena di parlare, dedicare qualche parola, un po' un fatto che è successo appunto stanotte per chi recupera il video oggi, comunque nella notte fra mercoledì e giovedì, nella partita fra Milwaukee Bucks e Boston Celtics, che era un po' la partita di cartello, la sfida fra due superpotenze della Eastern Conference, che era attesa perché i Bucks arrivavano da cinque vittorie di fila e i Celtics invece hanno, se non ricordo male, vinto sei delle ultime sette prima di questa partita, la partita l'hanno vinta i Celtics bene, anche molto meglio rispetto al 119-116 che è stato il risultato finale, perché Milwaukee è riuscito ad aggiustare un po' il punteggio nel finale dopo essere stata sotto, anche di brutto, letteralmente di parecchio per tutta la partita sin da subito. Abbiamo deciso di parlare un po' chiaramente della partita, soprattutto di Milwaukee Bucks, ma anche prendendo lo spunto da un episodio, un episodio che non è unico in questa stagione, successo nel terzo quarto, a metà più o meno esatta del terzo quarto, fra Gianni Sant'Eto Kumpo e coach Adrian Griffin, che adesso vanno anche a mettere nella grafica, così almeno non guardate me, ma guardate loro. Cosa è successo? Andiamo a ripercorrere. Allora, letteralmente a metà del terzo periodo con i Bucks che erano sotto di un 16 punti, più o meno, quello che il punteggio fosse qualcosa come 76-60 per i Celtics o cosa del genere, Gianni Sant'Eto ha perso un pallone per un'infrazione di doppio palleggio in transizione. A gioco fermo Griffin aveva chiamato il cambio, aveva chiamato Bobby Portis per lui. Antetokumpo, come si vede anche nella foto, come avrete visto sicuramente, l'abbiamo messo anche sul nostro sito, NBApassion.com, lo vedete sicuramente. Come è successo? Gianni sostanzialmente non ha accettato, non ha accettato di uscire e ha, prima di tutto, rifiutato di dare il 5, è classico, al coach che era lì, a Griffin che era lì. Poi invece di andare a sedersi in panchina, anche se magari non contento, ha messo in piedi una sorta di piccola, è durata pochi secondi, però una sorta di piccola sceneggiata. Sostanzialmente si è messo a discutere di fatto con Griffin davanti a tutti, letteralmente, lì come si vede sulla foto, sul tavolo tecnico, insomma, dove ci sono tutti i commentatori che scrive i referti, l'annuncer e quant'altro. Si è messo appunto a discutere con Griffin per qualche, secondo Griffin gli ha chiesto sostanzialmente di tornare in panchina, sedersi almeno per qualche secondo, letteralmente avendo capito un po' che aria tirava Gianni, si è rifiutato, si è messo lì, come si vede, un po' così seduto, ha covacciato sul cubo dei cambi che nell'ambiente non esiste, ma tant'è, facciamo finta che ci sia, e ha preteso, praticamente si è imposto sostanzialmente su Griffin, e ha preteso di essere rimesso in campo subito, dopo un po' sesso, letteralmente, Griffin lo ha rimesso in campo, sempre al posto comunque di, al posto di Portis, perché sostanzialmente era costretto a fare, non poteva fare, non poteva fare niente, ha stato costretto dalla sua star, che con tutto il suo peso, se in posta non ha rispettato la decisione sacrosanta di un allenatore di toglierti, di metterti in panchina per qualche minuto. Un episodio che ha un precedente, che ha un precedente nella prima partita di stagione irregolare, proprio l'esordio dei Bucks nuovi con Yannis e Damian Lillard, contro i Philadelphia 76ers, adesso non ricordo più quale fosse il quarto, ma poteva essere forse il terzo o il secondo, se non ricordo male, è successa esattamente la stessa identica cosa. Griffin aveva richiamato in panchina Yannis, dopo un possesso, una palla morta, Yannis in quel caso si era poi alla fine seduto in panchina, ma aveva palesemente obiettato alla decisione di Griffin e gliel'aveva fatto notare in maniera piuttosto evidente, si era notato proprio anche guardando la partita, poi chiaramente i telecronisti, sia che l'abbiate seguita con la telecronica in inglese e della tuba americana, sia che in Italia l'avete notata sicuramente, si era proprio notata questa scena, questo siparietto, Yannis è andato poi a sedersi e poi qualche minuto è rientrato. Abbiamo deciso di sottolineare anche questa cosa qui, anche appunto l'abbiamo scritto anche poi in giornata su NBApassion.com perché appunto è un precedente e poi è una situazione, secondo me, secondo noi, delicata perché sappiamo benissimo che Adrian Griffin è un allenatore esordiente, prima di tutto l'NBA ha sempre fatto l'assistente per anni a Toronto, soprattutto è stato assistente di Nick Nurse, anche dei Raptors che hanno vinto il titolo nel 2019 e fino all'anno scorso è stato assistente di Toronto Raptors quest'anno ha il primo incarico da head coach ed è insomma un incarico non da poco, è andata ad allenare la squadra di Yannis Antieto Kumpo e Demian Lillard che ha come un unico obiettivo chiaramente vincere il titolo, quando fai una trade del genere non ci sono altre alternative ed è insomma soprattutto anche con l'eredità di un coach come Mike Budenholzer che è ancora stato desonerato con ignominia diciamo l'anno scorso nel 2023 dopo che i Bucks erano stati espulsi, eliminati al primo turno dalla testa di serie numero uno, dalla testa di serie numero rotto i Miami, però Budenholzer è anche allenatore nel 2021, quindi non cento anni fa, due anni fa ha vinto il titolo NBA, il primo, il secondo titolo NBA della storia della Franchiglia, il primo dell'era Yannis Antieto Kumpo, un titolo che ha salvato un po' capre cavoli perché anche in quel caso lì la pressione cominciava a montare davvero tanto sui Bucks di Yannis, di Middleton, di Girovallide che era arrivato da poco via trade, quindi un'eredità pesante di Adrian Griffin che ha iniziato bene, non si può dire che i Bucks come risultati di squadra abbiano iniziato male perché sono dopo la partita di stanotte perché c'è stato quindi adesso comunque fra mercoledì e giovedì, sono dieci vittorie e cinque sconfitte hanno quindi un record più che positivo, sono lì assieme ai Miami, ai Celtics, a di Orlando Magic, incredibile in testa alla Ister Conference, con la partnership adesso fra Dayme e Yannis tecnica ci andiamo dopo perché c'è qualcosa da dire, sono uno dei migliori attacchi dell'NBA, il terzo mi pare, vado a memoria o il quinto miglior attacco dell'NBA per l'offensive rating, ma anche questo è un tema che andiamo ad affrontare adesso sono molto indietro in difesa, sono ventiduesimi, ventidresimi per l'offensive rating e in generale, considerato anche che hanno ancora con Chris Middleton a regime ridotto gioca, venti, venticinque minuti da partita, non di più, sono infortunato Jay Crowder che aveva iniziato bene la stagione non sono sembrati bellissimi, bellissimi da vedere e in questo senso l'impatto, diciamo così, di Griffin e che Griffin ha subito dal suo primo assaggio di NBA da head coach, secondo me vale la pena un po' descriverlo, un po' soffermarci perché questo appunto, come ripeto, è il secondo episodio di, vogliamo chiamarla in subordinazione? No, perché non è questione di subordinazione, qui è proprio Yannis che si impone con tutto il suo peso e i suoi muscoli, diciamo anche, che sono notevoli e fa valere il suo status su un allenatore che non ha l'excursus, non ha il curriculum, non ha l'esperienza per imporsi a sua volta, per fare finta di niente e lasciare che la cosa vada avanti per esempio, Kobe Bryant faceva così ogni tanto con Phil Jackson però lo faceva con Phil Jackson, che aveva già vinto il suo intitolo, lei bolsa ed era coach Zen era già Phil Jackson e poteva semplicemente permettersi di fare finta di niente potete sorridere con il suo sorrisetto sardonico, per non dire altro, beffardo quello che volete, lasciava fare, era un po' un accordo tacito fra lui e Kobe e sappiamo che i risultati sono arrivati, dove arriveranno questi Bucks di Griffin Yannis e Dave, non lo possiamo sapere, siamo qua apposta per vedere come tutti voi però appunto, mi ripeto, valeva la pena sottolinearlo, raccontarlo e andare anche a vedere come i due hanno commentato letteralmente con poche parole, non liquidato direi più la vicenda allora, Griffin, come gli hanno fatto la prima domanda che gli hanno fatto è andato subito a commentare, anche lui poche parole, ha ricostruito appunto la vicenda ha detto, Yannis voleva restare in campo io volevo dargli almeno un giro di riposo allora gli ho detto, una volta che avevo preso coscienza diciamo che Yannis non aveva alcuna intenzione di andare a sedersi in panchina allora gli ho detto di stare fermo per almeno il possesso successivo e poi rientrare subito, cosa che poi appunto è avvenuta a Yannis hanno detto che un po' hanno chiesto esattamente la stessa cosa lui non ha voluto commentare, ha proprio risposto no ecco, non ho niente da dire che può significare che non aveva niente da dire nel senso che anche Yannis vuole lasciarsi alle spalle questo episodio che già, per l'ennesima volta, ha un precedente andare avanti oppure sono messaggi è un messaggio di antitocu un po' che sappiamo dopo l'arrivo di Deim ha deciso di firmare l'astensione contrattuale quest'anno anche se potete aspettare l'estate del 2024 senza problemi un'astensione di tre anni che lo terranno gli occhi ancora pertanto la sua scadenza di contrato si è arrivata eventualmente nel 2025 un messaggio che le cose non gli stanno andando bene un messaggio che Coach Griffin non è quello che si tra i quali ti aspettava, considerato che ha chiaramente avuto voce in capitolo nel suo arrivo, nella sua assunzione è semplicemente un sintomo, diciamo così una manifestazione di impazienza direi a me, almeno quello che è sembrato di impazienza, di nervosismo di voglia di fare, voglia di strafare di Yannis che sente anche secondo me un po' anche la pressione appunto di dover vincere per forza perché sono andati a prendere Demian Lillard è la star che non è, soprattutto che Demian non ha mai avuto al suo fianco ma insomma è il giocatore migliore con cui hai giocato in carriera con tutto il rispetto chiaramente per Drew Holiday e Chris Middleton che sono due star chiaramente però Demian Lillard da quel punto di vista ha uno status ancora superiore pur non avendo mai vinto un titolo cosa che invece Middleton Middleton e Holiday hanno già fatto appunto l'inizio dei Bucks è un po' a due facce perché guardando solo il record siamo direttamente se siete tifosi dei Bucks direste che siamo sulla tabella di marcia 10-5 inizio un po' così poi dopo una bella striscia insomma di tante vittorie adesso non ricordo più 5 probabilmente vittorie consecutive come un attacco che è tornato scoppiettante è una difesa che ha migliorato un tanticchio ma poco e anche qui ci sono un paio di considerazioni sull'asse Griffin il resto della squadra giocatori soprattutto senatori diciamo così da analizzare un'altra cosa inizio stagione per chi segue un po' di più i Bucks lo avrà notato sicuramente Griffin aveva tentato di implementare un sistema difensivo diverso rispetto a quello chiaramente allenatore nuovo vita nuova anche in difesa diverso da quello che erano stati i Milwaukee Bucks fino a pochi mesi fa anche perché è andato via a giro all'idea chiaramente bisogna bisogna sistemare un po' un po' le cose un sistema difensivo che senza stare a dilungarsi se cosa fosse predicato perché si è visto molto poco però prevedeva insomma una una difesa più aggressiva rispetto a quella tipica conservativa adesso ci arriviamo sui pick and roll sostanzialmente che Milwaukee ha sempre ha sempre utilizzato e che però non ha funzionato per le che le cifre hanno detto che non ha funzionato nelle prime partite Griffin e i giocatori hanno fatto una precipitosa marcia indietro tornando ai precetti ai concetti anzi che cari e che soprattutto i giocatori dei Bucks conoscono a mena dito dagli anni di Burninolzer che hanno fatto anche la fortuna della squadra soprattutto nel 2021 ovvero sia di una difesa più conservativa sui pick and roll in generale più tesa a proteggere l'area avendo a disposizione Giannis ma soprattutto Brock Lopez che è uno dei migliori difensori interni dell'NBA uno dei migliori ring protector come si dice in inglese migliori difensori al ferro le cose sono migliorate un po' non tantissimo adesso come ripeto i Bucks sono 22 mi pare per defensive rating non danno per nulla sinceramente a vederle così la impressione di solidità difensiva non tanto Lopez o Giannis quanto gli esterni tutti gli esterni Lillard Malik Bisley Chris Middleton che sta migliorando sta migliorando a dei momenti ma atleticamente è molto lontano da quello che avevamo visto prima difensivamente soprattutto prima degli infortuni ci sono delle cose buone dai giovani come Marjon Beauchamp Andrew Jackson eccetera che ci danno sicuramente hanno voglia di farsi vedere di scalare le posizioni nella rotazione Jay Crowder che anche lui ha vissuto giorni migliori insomma in una parte finale della sua carriera però è un giocatore esperto può dare la sua se infortuna può dire la sua se infortunato però tutto questo era non dico da preventivarsi perché comunque è chiaro che dopo la trade si sapeva che ci sarebbe stato un buco in quel settore in quei ruoli guardia era piccola quindi quello è quasi atteso quello che si aspettava un po' meglio secondo me era un po' la chimica letteralmente l'unione delle forze fra Yannis e Dame che prima ancora di andare a vedere le cifre mi danno proprio l'impressione di fare ancora e questo anche penso sia normale di fare ancora molto a turno prima di tutto adesso vado un po' io poi vai un po' te Griffin con le sue rotazioni tende almeno nel primo tempo soprattutto tende ad alternare per quanto possibile i momenti in cui c'è in campo o solo Lillard o solo Yannis questo succede sempre quando ci sono le squadre nuove con due o più giocatori molto ingombranti da questo punto di vista che si devono ambientare è un modo per facilitare l'inserimento mi hanno dato l'impressione di fare un po' a turno appunto e questo è normale ma mi hanno dato anche l'impressione di non guardarsi più di tanto in campo tante belle parole tanti cinque ogni qualvolta il gioco è fermo tanti huddle in cui si giusticola fai così facciamo così bene bene questo meno bene quell'altro però in campo poco sono pochi ancora rispetto a quello che potrebbero essere i pick and roll i pick and roll giocati fra i due con Yannis da bloccante sono poche le situazioni in cui entrambi soprattutto questo lo fa Yannis che per motivi anche tecnici è un po' più limitato da questo punto di vista sono poche le situazioni ancora in cui i due riconoscono il mismatch altrui riconoscono che uno dei due perché con i cambi difensivi è marcato da un difensore attaccabile e quindi come si gioca nell'NBA si sfruttano queste cose si va subito a sfruttare appunto il mismatch questo Deim lo sta facendo secondo me sempre secondo me è molto interessante se volete dirci nei commenti c'è dare cosa ne pensate questo secondo me Deim lo sta facendo anche in maniera abbastanza vistosa lo si vede cesticolare indicare ai compagni quando Yannis ha un mismatch favorevole Yannis lo sta facendo molto di meno perché Yannis è molto abituato ad avere il pallone in mano gradisce avere il pallone in mano si è sempre considerato a torta ragione un iniziatore di gioco soprattutto in transizione ma anche a difesa schierata quest'anno i Bucks hanno utilizzato molto dei picker altissimi con Deim che non arriva appunto a portare sul pallone tantissimi giochi a due con Yannis da palleggiatore e Brooklop Sportis Pat con Norton che gli portano questi blocchi all'altezza della lunetta per poi dare un po' lo slancio a Yannis che poi dopo chiaramente quando mette due piedi in area è dominante è dominante i Bucks all'altro hanno sbagliato tantissimi canestri tantissimi tiri da sotto canestro contro i Celtics cosa che di solito non avviene ma questo chiaramente può essere sicuramente di merito della difesa dei Celtics anche un po' è anche un po' chiaramente di caso la sconfitta non è stata bella era attesa secondo me perché i Celtics sono una squadra molto più molto più cementata mi danno questa idea nonostante abbiano aggiunto Girovalide e Porzingis però si sono adattati molto di più a non avere il pallone in mano soprattutto così tanto rispetto a quanto ce l'avevano in precedenti così incarnazioni soprattutto Girovalide tutte partite ancora da giocare molto basso da giocare questa è la buonissima notizia la cattiva notizia che però non è non è bella da vedere proprio se andiamo a vedere le cifre anche ne sono sognate un paio giusto per andare a vedere in questo momento appunto non si stanno questa partnership non si sta traducendo in quasi niente per i Bucks senza perderci in cifre che tanto poi dopo senza guardare le partite chiaramente suonano un po' fini a loro stesse però se andiamo a vedere ad esempio il plus minus della coppia Giannis Lillard Lillard Nettokounmpo nelle 12 partite che hanno giocato assieme per 100 possessi Giannis e Lillard stanno ottenendo un bel tra virgolette meno 2,4 di plus minus che è molto inferiore rispetto ad altre coppie più consolidate Brock Lopez Middleton Brock Lopez Portis Middleton Portis poi chiaramente tutte quelle con Giannis ho detto con Portis ho detto un po' anche con Cameron Payne che tra l'altro è arrivato quest'anno quindi la partnership finora fra Giannis e Lillard funziona poco perché se noi andiamo a vedere invece ad esempio il plus minus sempre per 100 possessi nei quintetti in cui ci sono Lillard e Middleton ma non Giannis in campo assieme questo quintetto ne ho preso uno giusto per quello che ha giocato di più per avere il riferimento è più 15,4 di plus minus per per cento possessi che Lillard soprattutto sta facendo fatica sta tirando anche male anche ieri sera perché ho visto la partita e per chi ci segue quindi la notte sempre fa mercoledì giovedì ha tirato molto male è partito malissimo ha sbagliato i primi cinque tiri sono sicuro poi ha sbagliato veramente tanti all'inizio poi ha raggiustato le cifre alla fine però ha sbagliato tanti tiri che di solito segna Lillard tende a partire un po' piano e poi accelera poi quest'anno ha partito abbastanza piano ambientamento sistema offensivo un po' diverso chiaramente gioca tutto però Lillard qui andiamo a vedere invece le cifre in termini di offensive rating defensive rating quando c'è un giocatore in campo e quando c'è un giocatore in panchina abbiamo notato questa cosa in attacco i Bucks proprio per una questione anche di familiarità probabilmente si vede quando c'è Lillard in campo stanno ottenendo un 113.2 di offensive rating che nella NBA di oggi non è proprio scintillante sarebbe da metà classifica diciamo così presa per il rating offensivo quando Lillard è in panchina mi luocchi ha un offensive rating di 123.4 che salvo ognuno sarebbe da primi tre posti dell'NBA forse oggi forse anche primo se non ricordo male le cifre le ho guardate prima dal punto di vista difensivo invece era quello che si temeva perché Lillard anche per motivi fisici più che atletici di dimensioni Lillard non è altissimo soprattutto è brevilineo non ha queste braccia lunghe eccetera quindi si temeva che i Bucks potessero patire di più in difesa la presenza di Lillard invece il fatto che Lillard sia in campo meno in difesa in questo momento le cifre sempre ci dicono che è totalmente ininfluente perché con Lillard in campo e Lillard fuori dal campo i Bucks difendono sostanzialmente allo stesso modo stanno accumulando un meno 0.7 di net rating di differenziale perdono di defensive rating quando Lillard è in campo quando Lillard è fuori dal campo il totale con Lillard in campo è un bel sempre che guida le regolette meno 9.5 di plus minus e anche per Antetokounmpo le cose incredibilmente non stanno andando benissimo perché sostanzialmente Giannis in questo momento appunto con lui in campo con lui fuori i Bucks ottengono un più 4.1 di plus minus che è buono ma non buonissimo e l'attacco la difesa chiaramente si sente l'impatto di Giannis in attacco anche qui è piuttosto nullo un più 1.1 di differenziale appunto in attacco fra quando i Bucks giocano con Giannis e quando Giannis è in panchina si stanno un po' nel tentativo di trovarsi letteralmente si stanno un po' tra virgolette annullando la vicenda perché probabilmente sta succedendo che qualcuno dei due rinuncia a qualcosa che sa fare molto bene perché comunque bisogna farla funzionare e la somma non fa il totale come direbbe per parafrasare un po' Toto in questo in questo momento io di queste cose tecniche sono preoccupato se ti fassi i Bucks diciamo così sarei preoccupato poco o molto poco perché comunque secondo me il fatto solo di avere Lillard e Giannis in campo sani per una quantitativa sufficiente di partite permette ai Milwaukee Bucks di vincere almeno 50 partite in stagione regolare andare in playoff e proporsi playoff con delle buone carte questo non è un problema secondo me tecnico il problema secondo me è dall'altra parte è per questo che abbiamo messo la foto questo rapporto così come vogliamo chiamarlo fra Giannis soprattutto è un allenatore tra l'altro c'è anche un altro punto su Lillard da fare fra Giannis è un allenatore che a vederlo così sembra non decollare sinceramente mi sembra che Giannis faccia molta fatica la mettiamo così a rispettare l'autorità di Griffin ma non perché Giannis sia antipatico o cattivo eccetera probabilmente in questo momento non sta sentendo possiamo ipotizzare da qui forte la presenza di Adrian Griffin che è in un contesto difficile perché l'abbiamo raccontato prima è difficile perché è un allenatore al primo incarico da head coach ai Milwaukee Bucks di un campione NBA due volte MVP che ha appena rifirmato e vuole vincere ancora perché perché ha detto nero su bianco che il suo unico obiettivo è anche vedere e provare a vincere ancora più di una volta se è possibile con i Milwaukee Bucks con il suo arrivo a Milwaukee quindi andiamo anche verso la chiusura se non andiamo lunghi col suo arrivo a Milwaukee Lillard chiaramente si è visto anche un po' sostituire sì cambiare il pattern diciamo così di sostituzione a cui era abituato a Portland Lillard giocava sempre tutto il primo quarto e poi dopo giocava molto 37-38 minuti a partita chiaramente però giocava sempre il primo quarto e poi dopo rientrava a metà al secondo e poi così via più o meno all'inizio stagione anche questa cosa era cambiata chiaramente anche Lillard sarà stato d'accordo perché queste cose si passano sempre anche dai giocatori soprattutto quando sono delle star e Lillard usciva qualcosa come 3-4 minuti dal primo quarto e poi dopo si andava avanti così recentemente in tutte le partite Lillard ha chiesto allo staff a Griffin di tornare alle sue abitudini a giocare tutto il primo quarto perché dice che si trova meglio prende più ritmo a partita legittimo assolutamente però anche questa cosa tende un po' suona un po' suona un po' suona un po' adesso magari un termine forte chiaramente però per per essere chiari suona un po' d'autogestione questo è innegabile ho detto autogestione perché un po' di rischio c'è perché abbiamo detto di Adrian Griffin che si deve guadagnare letteralmente si tratta di quello si deve guadagnare il rispetto di giocatori con un grandissimo status che sono lì nel caso di Yannes e altri ma non solo tutti i veterani è Brooke Lopez Patrick Noton Bobby Portis eccetera che sono tutti i veterani che hanno vinto il titolo Middleton ovviamente queste cose contano è un momento delicato secondo me per i Bucks se finisce male speriamo crediamo di no si va veramente verso l'autogestione e anche a questo punto la posizione di Griffin è da è da valutare perché perché così rischia di diventare delicata abbastanza in fretta in quel caso lì penso e credo che anche il management della squadra intervenga per blindare l'allenatore il management dei Bucks che d'altro è sempre molto silente ma magari potrebbe tirare fuori la voce se dovesse servire comunque una situazione che è tutta la monitorare anche perché parliamo di una di quella che salva ognuno insieme ai Denver Nuggets ai Celtics e sicuramente poche altre adesso mi staranno sfuggendo sicuramente qualcuno parliamo della favorita numero uno bis o tris o principale che vogliate del titolo NBA quindi ogni sospiro che filtra diciamo così dal come si chiama dal Pfizer Center Pfizer Forum pardon è è da scrutinare con con assoluto con assoluta attenzione in attesa delle prossime puntate tanto se avete seguito il video magari ci dite nei commenti se credite cosa ne pensate di quello che abbiamo detto qui continuate a seguirci chiaramente sul nostro canale di YouTube iscrivetevi fate iscrivere tutti quelli che conoscete appassionati di NBA non solo che non ci seguono seguiteci sui social su Facebook su Instagram su Twitter dove volete sia in pagina con Facebook che con i gruppi col gruppo grande che abbiamo con la community grande che abbiamo che è sempre attiva e che ringraziamo sempre perché senza di loro è sempre tutto più difficile e seguiteci chiaramente anche in tanti come sempre su mbapassion.com e noi ci vediamo con le dirette con i video insomma tutte le cose che carichiamo qui sul nostro sul nostro canale YouTube e quindi alla prossima vediamo dove anche dove ritroveremo i miei walkiebugs con i video